Balliamo? No, per favore, no. Sì, tutto balliamo, dai, coraggio. Ti senti meglio? Dai, non fare così. Tu sei un angelo mandato dal cielo. Che sta facendo quel viscidone? Lo voglio mozzare. È molto meglio. Sì, conte minimo, serve qualcosa? Lascialo andare! Lascia la mia principessa. Conte minimo, che ti succede? Hai una brutta cera, ti senti male, mal di testa, gastrite? No, 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 non è questo. Si sarà abbassata un po' la pressione. Ah, si è abbassata la pressione, poverino. Chiamiamo un medico, aiuto, emergenza. Un medico! No, no, un medico no. Si sente male. Non è che io mi senta così male, no, no. Massimo, ascolta una cosa. Io so cosa ti succede. Un respiro profondo? Grande? Tu sei geloso. Geloso, geloso io. Sì? No, quello che mi succede è che sono contrariato. Perché state ballando qui, in casa mia. No, quello che mi succede è che?